Siamo qui. E voi appoggiatevi? Sì, ma siamo in un po' di appoggiare, abbiamo un po' di appoggiare. Ok, ho capito, guardatevi, ora andrò. Grazie mille. Oggi, siccome sono le feste di maggio, quindi a cavallo del primo maggio abbiamo diversi giorni di ferie, andiamo a fare un giro a Vedenja, ci andiamo con la monorotaia. C'è una sola linea di monorotaia a mostra che collega a tre metropolitane e oggi te la facciamo vedere. Sto salendo su, sto andando a raggiungere mio marito, che con la bambina è entrato dall'altro lato con l'ascensore, si può salire solo in due lì, perché è un ascensore vecchio, non può trasportare più persone. Qui potete ammirare l'albergo Cosmos, che noi chiamiamo Mezzo Bicchiere. Adesso vi facciamo vedere perché. Se siete italiani, se siete stati a Mosca, è molto probabile che siete stati qua. Allora, se a Timeriasi Sky, dove abbiamo preso la monorotaia, c'era per miracolo l'ascensore, qui a Vistovic, nel centro, dove siamo usciti, non c'è né l'ascensore, quindi abbiamo dovuto portare giù il passeggino per le scale mobili, e non c'è nemmeno, come si chiama, Pandus, qualcosa per scendere, che non mi ricordo più in italiano come si chiama, non c'è. Quindi adesso prendiamo il passeggino in due e lo scendiamo. Eccoci qua, siamo a Vedenka, questa è l'entrata. Vedenka è un acronimo che sta per Vistovka, Vestigeni Narodneva Kasiaistwa, cioè esposizione dei raggiungimenti, dei risultati dell'economia. mio marito mi fa sapere che Narodneva Kasiaistwa, che io volevo tradurre come agricoltura, non è proprio agricoltura, è proprio economia in Navajas, Newspeak, quello che George Orwell chiamava Newspeak, cioè spiega un attimo questa cosa del Navajas, quale anno era, perché è interessante. E me l'hai spiegato, provvedendo. No, no, va bene, questo Newspeak sovietico che si inventava i nuovi nomi per cose che già esistevano, come ad esempio invece di un ministero. Prima, fra il 1917 e il 1948, si diceva il Narodneva Kasiaistwa, cioè il commissariato popolare, invece di un ministero. E quindi qui al posto di dire economica, si dice Narodneva Kasiaistwa, cioè Kasiaistwa significa... cos'è Kasiaistwa? Kasiaistwa è tutto quello che riguarda la casa, non la proprietà, e Narodneva del popolo. Ecco. Ai sovietici li piaceva dire popolare, cose del popolo, come ad esempio esiste ancora Corea del Nord, che ufficialmente è chiamata Repubblica Democratica Popolare, se non mi sbaglio di Corea, quindi Popolare Democratica e anche del popolo. così si può chiamare solo uno stato in cui tutto ciò appartiene allo stato. Alle nostre spalle invece potete vedere il viale degli astronauti con quel missile che è rivolto al cielo e sotto a quel missile c'è il Museo dell'Astronautica, o meglio, il Museo della Cosmonautica. Mi sa che vi dovremmo portare a fare un giro anche là. Chi vuole vedere un po' di nazionalismo? Qui c'è scritto Russia. Perché qui soprattutto ultimamente la Russia proprio come nazione sta venendo celebrata. Io quando vedo queste cose mi domando ma il mio è un pregiudizio o no? Mi sembra un po' come se tu andassi non so a Parco Sensione a Milano e ovunque ci fosse scritto Italia, 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 Italia viva l'Italia com'è bella l'Italia Italia da scoprire. Poi c'è anche quella canzone del giovane Savoia. Ah, la canzone ho fatto sentire a mio marito ultimamente la canzone di Emanuele Filiberto con Pupo. Io credo nella mia cultura e nella mia religione per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Il mio marito è rimasto allucinato dalla bruttezza del testo. Quello che vi ho fatto vedere proprio adesso era il padiglione centrale il padiglione dedicato alla Russia è questo qui in questo momento ospita una sede dell'Enfezè Maida Kumienti. Pesè Maida Kumienti è siccome è una città grande come Mosca che è grande quanto un'intera regione italiana non può avere un solo anagrafe tutti i documenti si fanno in diversi centri e quindi questo è uno di questi centri in cui si vanno a fare documenti e così. Questo è uno dei nostri padiglioni preferiti il padiglione dell'Armenia. Varevzes Hayastan. Varevzes ci piace molto questo padiglione perché non tutti i padiglioni hanno conservato diciamo la loro forma originaria cioè in molti padiglioni si fanno mostre di cani e di gatti che non hanno niente a che fare con il paese che rappresentano mentre il padiglione dell'Armenia contiene diversi negozietti che vendono cose armene ci sono mostre che mostrano non so modellini architettonici di siti importanti dell'Armenia c'è il ristorante armeno nel padiglione armeno Ararat si chiama sì innanzitutto vi voglio far sapere che adoro l'illuminazione di questi padiglioni perché mi fa una pelle bellissima se avete già visto il nostro video sull'Armenia questo è H.M.E.ZENU noi ci siamo stati e ve l'abbiamo fatto vedere se non avete ancora visto quel video mi raccomando guardatelo ve lo postiamo qui su in questo padiglione è anche esposto il modellino di un monastero che si trova a Venezia e si chiama monastero di San Lazzaro degli Armeni si trova sull'isola di San Lazzaro ed è stato costruito perché nel 1717 arrivò a Venezia un monaco cattolico armeno e quindi nel 1742 è stato costruito ora non conosco bene la storia ma c'è qualcosa che accomuna l'Italia e l'Armenia come vi dicevo qui ci sono tanti negozietti che ci piacciono ci sono tutti questi tappeti c'è il ristorante Ararat dove si può mangiare oppure c'è qui dove si può fare uno spuntino vendono diverse prelibatezze come questi cacciapuri qui io e mio marito ci fermiamo quando veniamo qui a passeggiare a comprare cose buone bibite spezie o altre cose per cucinare armeno o comunque per cucinare il tutto tanto io ormai cucino italiano con quello che capita la mia cucina è fusion parte del nostro bottino abbiamo preso il burtucci questo è il nostro pranzo secondo me è meglio della shawarma adesso vi faccio vedere uno dei miei punti preferiti di Bedenka che è la fontana dell'amicizia tra i popoli che non esiste più questa amicizia mi fa sapere mio marito che l'amicizia tra i popoli non esiste più vabbè immagino che ve ne eravate accorti mi sa che Tajikistan è stato l'ultimo paese ad annullare l'amicizia con Russia è un bel sogno quello dell'amicizia tra i popoli comunque no no scusa rimane l'Azerbaijano chiaro che amico sì ognuna delle statue dorate di questa fontana rappresenta una delle sedici repubbliche sovietiche padiglione usbeko bello casa della cucina russa questa è una scusa per spiegarvi una cosa che vi volevo spiegare da tempo in italiano c'è una sola parola per definire ciò che appartiene alla Russia ed è russo aggettivo russo di nazionalità russa cittadinanza russa in russo invece ci sono due parole per descrivere quello che in italiano descriviamo con una sola parola queste due parole sono rassischi e ruschi qui c'era scritto dom rassischi rassischi è tutto ciò che appartiene alla federazione russa in quanto stato in quanto unità politica ok mentre ruschi si riferisce all'etnia russa alla cultura russa che non è necessariamente la cultura di tutta la federazione russa che comprende un mare di gruppi etnici di nazionalità e di culture diverse infatti quando io in russo dico che sono cittadina russa mi definisco rassischi grazdanin non ruschi grazdanin perché io non sono di nazionalità rusca ma sono italianca stiamo studiando la mappa di vera in casa ci siamo accorti che la mappa oltre ad avere le descrizioni anche in caratteri latini ce ne è anche in cinese ovunque di caratteri latini cinese caratteri latini cinese abbiamo appena scoperto che ci sono state un mare di cose in questo padiglione e che il centro internazionale del balletto c'è soltanto dal 2017 e che dal 1956 al 1964 questo edificio ha ospitato un reattore nucleare funzionante e vedete in che bel posto mi fermo ad allattare qua c'è una panchina raffia armi adietiam cioè l'esercito per i bambini giusto? tradotto bene? dall'esercito ai bambini che ci fa impressione ma non di una ragione come dall'esercito ai bambini sì l'esercito che fa qualcosa per i bambini ah ecco capito bene ognuno traga le proprie conclusioni stiamo ritornando a casa la nostra passeggiata volge al termine però anziché ritornare dal partendo dalla stessa stazione della monorotaia dove siamo usciti che era Wistowiczny Centro adesso prendiamo il treno al capolinea che è Uliz Strichia Eisensteina quelli lassù sono l'operaio e la contadina Rabocci i Kalkosnitz io tra l'altro una volta ho partecipato a un evento teatrale nel centro Rabocci i Kalkosnitz sotto il quale sopra al quale ci sono le statue dell'operaio e della contadina me ne vergogno anche un po' infatti spero che fotografie e video di quell'evento non siano mai diffuse perché ho fatto veramente schifo la nostra passeggiata è finita siamo arrivati al capolinea se non l'hai ancora fatta iscriviti a questo canale accendi le notifiche per non perderti i prossimi contenuti che farò e in particolare i prossimi contenuti sulla vita quotidiana in Russia ciao ciao